Una difficile sessione di qualifica quella del GT Open a Monza per il sesto appuntamento stagionale dell'International Series una pole position, una sorpresa per la McLaren 650S di Rob Bell che in 1'46 e 380 si è portato davanti a tutti inquadrato il bruttissimo botto di Alex Moisev che ha portato a una lunga sospensione ma la vera sorpresa è qui l'inquadrata Lamborghini Gallardo di Craig Dolby a soli 4 decimi dalla pole position seconda fila per Marco Mapelli, compagno di Giovanni Venturini, leader di campionato che cercherà ovviamente di allungare nella gara del pomeriggio bellissimo passo della McLaren con anche Duncan Tappi che è arrivato in quarta posizione dunque McLaren sugli scudi, ottima prova sempre della BMW M6 di Theo Martin Motorsport presente nelle posizioni di vetta con Victor Boveng e Fran Rueda dunque la McLaren che si è imposta davanti a tutti, la gioia del muretto con l'inglese che ha avuto la meglio nei confronti degli avversari grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti